eccoci qua sorpresa con cos'è tele extra liscio questo cos'è lui è un tipo tecnologico finisce sulla televisione del liscio ma è un piacere comunque se lo mangiare anche io praticamente di preto cotone in arte nome e cognome Emanuele Para perché perché il vero nome è cotone di nascita è battato battezzato cotone però nome d'arte è Emanuele Para in arte anche pico 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 mentre il cuoco della giornata è un cuoco extra naturalmente lo sapete tutti Emanuele Para in arte pico perché praticamente siamo anche io Emanuele Para in arte pico siamo tre picchi siamo un trio no siamo qua io non vi posso far vedere la parte strumentale perché è un segreto e quindi non si può come dire raccontare come vengono realizzati questi arrangiamenti però vi faccio vedere un angolo emotivo questo è il primo angolo emotivo della della sala di registrazione perché noi siamo in sala di incisione sala di registrazione extra liscio Mirko Mariani sta realizzando con la sua mente tutto il il nuovo disco e questa è una parte emotiva un angolo emotivo un altro angolo emotivo anche qui non vi faccio vedere gli strumenti è questo qua altro angolo emotivo eccolo qua che si può vedere siamo vicini al Natale quindi però trae inganno la vicinanza del Natale perché a dire la verità è sempre è sempre comunque Natale qui non so qui è Natale Pasqua primavera poi l'altro aspetto dove c'è proprio la regia della sala di registrazione è questa qua ecco se potete vedere vi faccio vedere l'angolo proprio l'angolo cottura dei brani ecco si è accesa anche la luce per far vedere che siamo anche a livello alto come come attrezzatura visiva ecco questo era l'angolo cottura della sala di incisione ecco qua ecco qua ci sono i quadri ci sono i lampadari quelli di una volta c'è questa radio proprio che ci può stare a testimoniare tutto quanto vi posso far vedere le chitarre ecco le chitarre le faccio vedere eh Mico le chitarre le facciamo vedere il resto no il resto rimane un segreto e come ancora un segreto è tutto il nuovo cd però il titolo lo possiamo dire come quali saranno picco contro tutti picco contro tutti e dopo questa dichiarazione che ci affascina ci ammaglia ci entusiasma pregherei alla regia di mettere in onda Riviera Romagnola versione extra liscio registrata alla Cadelballo dove proviamo a darvi qualche anticipazione sicuramente ci faremo vedere anche con extra liscio e già che ci sei puoi mettere due video potresti mettere anche cia 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 d'amor registrato sempre a Cadelballo di Ravenna comunque fai tu vedi tu divertiti divertitevi ciao dalla sala di registrazione pico anche la sala di registrazione pico della mirandola pico ciao a tutti ciao grazie adesso vaga ma niente a me ecco questa è la pausa di registrazione questa è la cucina che piatto è ma l'oredo sardo coi broccolo ma l'oredo sardo coi broccolo ciao a tutti ciao